...e come presidente della società dantesca italiana a me il compito di avviare, nemmeno introdurre perché sarà Riccardo Bruscaglie, il professor Riccardo Bruscaglie per tanti anni il nostro insostituibile rettore alla facoltà di lettere a Firenze a introdurre poi Ottavia Piccolo e all'arpa celtica l'accompagnamento del professor Corsi. Devo dire che è una bella occasione, una bella opportunità, Ottavia Piccolo si è caratterizzata, ne sappiamo tutti le doti e tutti abbiamo una profonda stima, ma si è caratterizzata in questi anni per un grande legame con Firenze, molto presente, sempre molto sensibile alla chiamata di occasioni di profilo e spessore culturale come questa, la sentiamo veramente una grande amica nella città di Firenze e sarà lei a accompagnarci con la lettura d'Antis nel primo canto dell'inferno, l'inizio, la selva oscura, siamo in un ambiente arboreo particolarmente ricco e stimolante, siamo in una data particolare, siamo in quei 20 giorni che accompagnano la nostra interpretazione del giorno in cui Dante nacque in questa splendida Firenze, come la definisce lui nel 23esimo la gran villa, la grande città al di là dell'Arno che ha accompagnato le note liete e i dolori della sua vita. Poi come dico sempre quando vado a Ravenna a festeggiare quello che è il settembre dantesco che richiama la ultima permanenza di Dante, mentre a Ravenna fanno sempre convegni, letture sui personaggi romagnoli che nel Purgatorio, nel Paradiso Dante ha ricordato, Firenze Dante l'ha ricordata con 40 personaggi identificabili, ma 32 sono all'inferno, 4 in Purgatorio, 4 in Paradiso, giustamente era il modo con cui lo avevamo trattato. Fatto sta che nel primo canto dell'inferno noi entriamo nella selva oscura e conseguentemente entriamo in quello che è la dimensione del sommo poeta che rimarrà per tutti una figura per l'eternità, tanto è stata complessa, significativa la sua opera al di là dell'essere il padre della lingua italiana. Ma volevo ricordare solo questo, noi sappiamo che Dante in quel 1265 è nato sicuramente nel periodo che segna il segno dei gemelli, perché lo ricorda della vita nuova di essere nato sotto il segno dei gemelli dal 21 di maggio, ma sappiamo che possiamo circoscrivere un po' questo periodo perché in altro tratto, in un epistola lui cita il fatto di essere nato qualche giorno prima della battaglia di Campaldino, quella battaglia che l'11 giugno del 1289 segnò il suo impegno di Milite Fiorentino, feditore era Dante in quella giornata che segnò le sorti di Firenze e d'Arezzo in generale della Toscana sotto il castello di Poppi nella valle del Casentino. Ecco, quindi noi sappiamo quando ricordiamo l'anniversario della nascita di Dante, quest'anno sono 749 anni, che è nato fra il 21 di maggio e l'11 di giugno. In questa fascia di 20 giorni noi vogliamo ogni anno omaggiare la nascita a Firenze del sommo poeta. Il prossimo anno saranno 750 anni e faremo delle cose che io spero particolarmente diano il segno di riconoscimento della città. Del resto saranno anche i 150 anni di Firenze capitale e non è un caso che quando Firenze diventò capitale, erano questi giorni, il 14 di maggio di quel 1865, la grande festa con il re Vittorio Emanuele che era accompagnato dai gonfaloni delle principali città italiane fu lo scoprimento della statua di Dante, quella statua dello scultore Enrico Pazzi che ancora oggi è accanto alla facciata della Basilica di Santa Croce. Allora fu collocata al centro della facciata, dopo l'alluvione fu invece spostata. Fatto sta che all'insegna di Dante coincidendo Firenze capitale con i 600 anni della sua nascita, in qualche modo oggi diremmo il testimonio al culturale fu lui, del resto il padre della lingua in un'Italia che da otto stati preunitari si univa, indubbiamente non poteva che svolgere questo ruolo. Quindi buon compleanno Dante Alighieri, grazie a Ottavia Piccolo di essere qui in questo scenario così suggestivo ma che immerge Dante nell'inizio del suo percorso nell'inferno nella sua Firenze e io do la parola a chi in realtà poi sono sempre un po' retorico anch'io quindi mi sono lasciato andare da dover fare solo i semplici ringraziamenti, anzi il ringraziamento più importante a chi ci ospita, Marcella Antonini che è la direttrice del Bardini e quindi davvero grazie per renderlo sempre più conosciuto e aperto alla città per la vera e propria introduzione al nostro caro professor Riccardo Bruscaglie. Sì Eugenio nella sua consueta cordiale generosità, esagerata generosità, mi ha promosso al rettore no, soltanto preside ed è bastato. Allora, una foresta buia, profonda, paurosa, un protagonista smarrito, ansimante che cerca disperatamente la via per uscirne. Egli non sa o non ricorda neppure come o quando sia capitato in quel luogo selvaggio. È stato come come svegliarsi all'improvviso e ritrovarsi in un paesaggio sconosciuto, strano, minaccioso. Facendosi largo alla cieca e gli riesce finalmente a giungere al limitare della foresta e scorge una collina davanti a lui che sembra promettere sollievo, la sua sommità già baciata dalla luce consolante del nuovo giorno. Ma i terrori del protagonista non sono finiti. Ecco tre belve spaventose tagliargli la strada. Ecco che gli sente di precipitare di nuovo all'indietro verso la scura foresta che è sempre lì alle sue spalle, paurosa, pronta a inghiottirlo di nuovo. Così, come sappiamo, comincia la Divina Commedia di Dante. Il grandioso poema comincia con la disarmante semplicità di un racconto di fiaba. Si gioca qui con le nostre paure ancestrali, trovarsi soli in un bosco smarriti nel buio, essere assaliti da mostri misteriosi. Ed è strano, perché tradizionalmente i grandi poeti e i grandi poemi cominciavano con un proemio in cui il poeta, come sappiamo, si faceva avanti, dichiarando il proprio soggetto, le proprie intenzioni, la propria idea di poesia, magari. E inoltre i grandi poemi epici si aprivano in genere con una invocazione alle muse, le idee protettrici delle arti e della poesia, così che l'autore potesse contare sulla loro divina assistenza. I maggiori poemi della classicità, che Dante conosceva e amava, dall'Eneide di Virgilio all'Achilleide, alla Farsaglia di Lucano, cominciano tutti così. Ma la Divina Commedia no. Nell'esodio della Commedia non troviamo né le muse, né il poeta che presenta a se stesso, né alcun manifesto della sua poesia. La Divina Commedia comincia d'un botto, come una fucilata. Mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Soltanto nel secondo canto Dante invocherà le muse, ma questo gli permette di cominciare la sua commedia con questa immediatezza narrativa strepitosa. Questo esordio, diciamo, elementare è allo stesso tempo gravido di significati nascosti. Non occorre essere uno specialista dell'algorismo medievale per intuire che il bosco, le bestie, il colle soleggiato sono parte di un racconto che deve essere letto nella sua coinvolgente immediatezza, ma che allo stesso tempo ci sta dicendo anche un'altra storia, ci sta inviando per così dire messaggi subliminali, sta parlando una seconda lingua. E questo è Dante, questa è l'inconfondibile poesia di Dante. Da una parte una soggiogante energia di racconto, una strepitosa capacità di inventare situazioni, emozioni, personaggi, ma allo stesso tempo il potere di creare nel racconto, dentro il racconto, un piano di significato parallelo. E di cui una sorta di sospetto sempre, di disturbante sensazione che ciò che viene raccontato non è tutto ciò che viene letteralmente detto, che il vivido realismo della storia non è mai tutta la storia in Dante. E infatti noi sappiamo che possiamo interpretare la prima scena d'apertura della commedia, essere perduto nella selva, essere incoraggiato dalla vista del colle solatio, essere spaventato dalle tre belve feroci come l'allegoria di una crisi di mezza età. Sappiamo che la selva è la selva del peccato, che l'oscurità è l'oscurità dell'animo tenebrata dalle sue passioni colpevoli e distruttive e anche la sensazione di svegliarsi all'improvviso riveste un significato metaforico. Dante si riscuote trovandosi nel buio della foresta, vediamo bene, senza sapersi rendere conto di quando o di come egli ci sia entrato. Questa, ci dice Dante, è l'esperienza vera del peccato, che non è un'azione occasionale. In realtà un'azione sbagliata ne segue un'altra, un comportamento malvagio diventa abituale e uno scivola, quasi senza accorgersene, in una sorta di sordo letargo dell'anima. Poi all'improvviso ci si risveglia ad un tratto pieno di terrore, ci assale la coscienza di dove siamo e ci si scopre persi nel buio della selva e senza neanche capire fino in fondo come ciò sia potuto accadere. Ma attenzione, come sappiamo e ricordiamo, Dante comunque riesce a districarsi dalla selva oscura con le sue sole forze, riesce a spingersi oltre il margine della foresta dove lo accoglie la vista confortante di un colle, baciato dai raggi del primo sole e in questo momento Dante pensa davvero, in altre parole, di essere capace di ascendere da solo il colle della luce, di riguadagnare la grazia perduta. Errore. Tre terribili bestie gli sbarrano la strada, una pantera, un leone e, più spaventosa di tutte, una lupa e le tre belve, anche questo lo sappiamo, vengono tradizionalmente identificate con i tre peccati capitali della lussuria, della saperbia, dell'avarizia o cupidigia. E si può certo pensare che questi tre fossero i peccati che turbavano in modo particolare la vita morale del nostro poeta, il che può essere vero, ma ciò che pare più interessante qui è il meccanismo psicologico e morale che Dante descrive sotto il velo dell'allegoria in questi versi. Egli si sta dicendo che quando si è schiavi del peccato, cioè quando si è sviluppata una vera e propria dipendenza dalle proprie viziose passioni, non basta semplicemente riconoscere l'errore e rendersi conto di quanto si è deviato dalla retta via, non basta aspirare al colle della luce. Questo è solo il primo passo necessario, senz'altro, ma pensare che basti abbandonare alle proprie spalle l'oscura selva del peccato per ascendere all'erta luminosa della virtù è una illusione. Perché? Perché le vecchie abitudini non svaniscono facilmente, rimangono a infestare l'anima, si ripresentano aggressive ogni momento e bisogna intraprendere un lungo e duro lavoro interiore, una sorta di paziente terapia per poterle sconfiggere davvero. Fortunatamente ecco arrivare un soccorso, arriva nella persona di Virgilio, il più famoso poeta latino, l'autore dell'Enei, dell'idolo poetico di Dante. Virgilio si offre a Dante come aiuto per sconfiggere il male rappresentato dalle tre bestie, ma non attaccandole direttamente, non scavalcandole per così dire, bensì usando una diversa strategia. Egli propone a Dante un lungo viaggio attraverso i tre regni dell'aldilà, un vero e proprio pellegrinaggio che lo porterà dall'inferno al purgatorio e dal purgatorio al paradiso. Ciò significa che per scampare dall'oscurità della selva del peccato e cambiare vita per davvero, Dante dovrà farsi spettatore dell'intera condizione umana. Dovrà sperimentare il delitto e il castigo, il pentimento e l'espiazione, il merito e la debita ricompensa del bene compiuto. Così il suo itinerario di conversione non è per così dire un itinerario agostiniano, un itinerario interiore di riavvicinamento personale a Dio. È piuttosto un itinerario attraverso tutte le passioni del mondo, attraverso tutte le miserie e le glorie della storia umana. Allora perché Virgilio? Ce lo siamo chiesti in tanti, se lo sono chiesti in tanti. Perché scegliere un poeta latino come guida verso la salvezza? Perché un pagano? Perché un personaggio che si trova nell'aldilà tra coloro che sono sospesi, cioè fra le anime del limbo. Limbo che costituisce dopo tutto, non dimentichiamolo, il primo cerchio dell'inferno dove trovano luogo, secondo Dante, coloro che vissero prima della venuta del Salvatore. Insomma gente, sì, senza colpe personali, ma insomma esclusa dal regno della grazia divina, esclusa dal paradiso cristiano. Dante sceglie Virgilio per ciò che Virgilio è e anche per ciò che egli non è. Lo sceglie precisamente perché è un poeta, un pagano, uno escluso dalla visione di Dio. Ma proprio in questo senso Virgilio incarna le risorse della pura umanità nel grado più alto. Dante crede che il sommo delle umane virtù possa essere riconosciuto nella civiltà e nella cultura dell'antica Roma e per questo egli non si fa guidare nella commedia da un santo o da un angelo, come ci si potrebbe banalmente aspettare, si fa guidare da Virgilio, escluso dalla salvezza della grazia cristiana, ma è il più grande esempio di valore umano che la più grande civiltà umana avesse, secondo Dante, prodotto. E ovviamente il personaggio di Virgilio proprio per questo sarà rappresentato anche nei suoi limiti. Virgilio non avrà tutte le risposte. Talvolta egli sbaglierà, specialmente dal purgatorio in poi, ma anche prima, si comporterà in modo imbarazzante, non proprio all'altezza sempre delle situazioni che gli si pareranno davanti. Ma egli rimarrà sempre altamente rappresentativo della perfezione che l'umanità è capace di raggiungere senza la rivelazione del Vangelo, prima di Cristo, senza il vero Dio. Così Virgilio finisce con l'incarnare una perplessità profonda dell'animo e della cultura stessa di Dante che attraversa tutta la commedia. La contesa che di continuo raffiora nella commedia tra un umanesimo profondamente orgoglioso di sé e un senso altrettanto profondo del limite di quell'umanesimo, tra la fiera indipendenza dell'intelletto e il bisogno insopprimibile della grazia divina. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 oscura, che la diritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual'era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura, tant'è amara che poco e più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir come ventrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi chi fui al pied un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle, vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allora fu la paura un poco coeta, che nel lago del cor m'era durata, la notte chi passai con tanta pieta. E come quei che con l'ena affannata, uscito fuol dal pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata. Così l'animo mio, che ancora fuggiva, si volse a retro a rimirarlo passo, che non lasciò già mai persona viva. Poi che hai posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sì che il pie fermo sempre era il più basso. Ed ecco, quasi al cominciare dell'erta, una cosa leggera e presta molto, che di pelma colato era coverta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, chi fui per ritornar più volte volto. Tempera dal principio del mattino, e il sol montavano su con quelle stelle che erano con lui, quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sicca bene sperar, mera cagione, di quella fiera, la gaetta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venisse, con l'alta testa e con rabbiosa fame, sicca parea che l'aere ne tremesse. Ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti fei già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza, con la paura cuscia di sua vista, che io perdei la speranza dell'altezza. E quale quei che volontieri acquista, e giugne il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensieri piange e s'attrista, tal mi fece la bestia, senza pace, che venendomi incontro a poco a poco, mi ripigneva là dove il sol tace. Mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto, chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui, qualche tu sì, od ombra, od omo certo. Rispose mi, non omo, omo già fui, e li parenti miei furon lombardi, mantoani per patria, ambedui. Nacqui subiulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buon Augusto, nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui, e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne di Troia, poiché il superbo Ilion fu combusto. Ma tu, perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia. Orse tu, quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlar sì largo fiume, risposio lui con vergognosa fronte. O degli altri poeti, onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che mi ha fatto cercare lo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore. Tu sei solo colui da cui tolsi lo bello stilo che mi ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi volsi? Aiutami da lei, famoso saggio, che la mi fa tremar le vene e i polsi. A te convien tenere altro viaggio, rispuose, poi che lagrimar mi vide. Se vuò campar de sto loco selvaggio, che questa bestia per la qual tu gride non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto l'ompedisce che l'uccide e a natura si malvagia e ria che mai non empie la bramosa voglia e dopo il pasto ha più fame che pria. Molti sono gli animali a cui si ammoglia e più saranno ancora, infinché il veltro verrà che la farà morir con doglia. Questi non ci berà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute e sua nazione sarà tra feltro e feltro. Di quella umile Italia, fia salute, per cui morì la vergine cammilla, e Urialo e turno, e niso di ferute. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nell'onferno la onde in invidia prima di partilla. On Dio, per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui e io sarò tua guida e trarrotti di qui per loco eterno. Ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti che a seconda morte ciascun grida. E vedrai color che son contenti nel fuoco, perché speran di venire, quando che sia, alle beate genti. Alle quai poi, se tu vorrai salire, anima fia a ciò più di me degna. Con lei ti lascerò nel mio partire, che quello imperador che la surregna, per chi fu ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si vegna. in tutte parti impera e qui vi regge, qui vi è la sua città e l'alto seggio. O felice colui cui vi elegge. E io a lui, poeta, io ti richeggio per quello Dio che tu non conoscessi, a ciò ch'io fugga questo male. E' peggio che tu mi meni là, dov'or dicesti. Si chioveggia la porta di San Pietro, e color cui tu fai, cotanto mesti. Allor si mosse, e io li tenni dietro. 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 E io li tenni dietro.